Benvenuti al Gran Premio di Russia, siamo vicinissimi al confine con la Georgia qui a Sochi e siamo pronti ad assistere all'inizio della gara che tante emozioni ci ha regalato nel 2015. Uno scontro all'ultimo giro tra Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas fece molto discutere. Speriamo di assistere a un'altra gara, emozionante, oggi. Costruita lungo le sponde del Mar Nero, la pista di Sochi è lunga 5,8 km e attraversa alcune delle strutture costruite per i giochi olimpici invernali del 2014. La vicinanza delle barriere rende i sorpassi più insidiosi, ma considerato che il 56% del circuito viene affrontato alla massima velocità, non ci annoieremo di certo. Un'arena degna della lotta per la vetta delle corse. E a condurvi lungo questa gara insieme a me c'è niente meno che Luca Filippi. Il primo anno questo circuito non partì proprio col piede giusto, ma poi ha cominciato ad attirare un pubblico maggiore e ora è un evento molto importante. Secondo te che cosa è cambiato? Credo che questo dimostri quanto sia importante risolvere i problemi non appena si manifestano. Visto che nel 2014 questa pista era un'incognita, tutti sono andati sul sicuro con le gomme e le strategie sono diventate molto simili dalla partenza fino alla bandiera a scacchi. Ma i team hanno fatto tesoro di quell'esperienza e l'anno successivo abbiamo assistito ad un gran premio emozionante con una battaglia per il podio che si è protratta fino all'ultimo giro. Spero che quest'anno la gara starà altrettanto spettacolare. Ricorda di proteggere l'interno della pista mentre ti avvicini alla prima curva. Allargati il più possibile con aggressività ma senza giocare sporco. Prima di partire diamo un'occhiata alla griglia dopo le qualifiche di ieri. In pole position abbiamo la Renault e Lewis Hamilton completa la prima fila e ora vediamo il resto della griglia. Rosberg, Vettel, Daniel Ricciardo e Raikkonen, Verstappen, Bottas, Massa e Daniel Chiat, Perez, Sainz, Romain Grosjean e Button, Hulkenberg, Alonso, Marcus Eriksson ed Esteban Gutierrez, Palmer e Nasr, Rio Arianto e Pascal Verlein completa la griglia. È quasi il momento di accendere i motori. Si scende in pista. Grazie a tutti. 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 Tutto a tutti. Grazie 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 a tutti. Hai vinto la gara, oggi hai fatto una gara fantastica Perfetto Bella vittoria per il team Renault oggi Luca, che cosa ha distinto questo team dagli avversari? Beh, probabilmente la gestione delle gomme è stata determinante in questa gara Come sempre la velocità in sé non è tutto Bisogna mantenerla costante per un intero stile, se non per tutta la gara Quindi riuscire a tenere un buon tempo sul giro senza sforzare troppo le gomme E la vettura si rivela spesso un fattore decisivo per la vittoria Ecco i vincitori di oggi, che grande gara Questa è una squadra che sa bene cos'è il successo in Formula 1 E non vede l'ora di conquistarne altri Congratulazioni alla Renault per la loro grande vittoria di oggi E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica piloti Il distacco in cima alla classifica si riduce Dopo una gara difficile per il primo classificato Luca Filippi, secondo te chi è il pilota del giorno? Beh, dopo una gara del genere non può che essere Nico Hulkenberg, giusto? Una guida molto pulita può ritenersi soddisfatto E ora vediamo la classifica costruttori I punti di vantaggio della Mercedes sugli inseguitori aumentano Nel frattempo, dopo un ottimo weekend La Red Bull migliora la propria posizione nel campionato Dopo questa gara vincente Sarebbe da pazzi perdersi il prossimo appuntamento Vi aspettiamo Sarebbe da pazzi perdersi il prossimo appuntamento Sarebbe da pazzi perdersi il prossimo appuntamento in della sfida adesso ah non è qua rifiore per capitano eh cosa potrebbe essere? forse una promozione a prima guida? credo proprio di si dagli un'occhiata te lo sei meritato ma ottimo perfetto perfetto mi cerco e sviluppo abbiamo fatto tutto di livello 1 queste qua sono canzoni perchè vengono vengono a terminare il prossimo Grand Prix perfetto il prossimo il prossimo il prossimo il prossimo è è il prossimo è è è il prossimo